Dal Ministero nessuna risposta all'interrogazione scritta che ormai quattro mesi fa venne presentata dal senatore Grillino Pietro Refic. Per il parlamentare pentastellato c'è la necessità che anche a Roma si accendono i riflettori sul sistema di timpazzo. Il sito ormai da tempo riceve quantitativi ulteriori in un'emergenza rifiuti che al momento non sembra aver trovato soluzioni. L'interrogazione scritta al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani fu presentata a settembre in concomitanza di una seduta monotematica del Consiglio Comunale convocata proprio per valutare le vicende che ruotano intorno alla piattaforma integrata di timpazzo. Ad oggi il governo regionale non ha dato indicazioni precise sulla fine dell'emergenza che concentra nella piattaforma locale gran parte dei rifiuti di altre province dell'isola, quelle più in difficoltà per lo smaltimento. Lo stesso Lorefice spiega che all'interrogazione scritta non è stato dato seguito dal ministro. Verrà fatto un sollecito se non ci sarà una risposta entro dieci giorni allora si cambierà metodo ispettivo e si procederà attraverso la commissione di riferimento. Per il parlamentare è importante che arrivi in orriscontri anche perché il ministero ha competenze rilevanti sui vincoli che sussistono sull'area del sito di timpazzo. L'interrogazione era finalizzata soprattutto a mettere a conoscenza il ministero rispetto alla situazione del sito di conferimento. Per l'orefice infatti un domani potrebbe essere utile qualora si ponesse l'esigenza di individuare eventuali responsabilità. Il senatore già quando la regione confermò i progetti per timpazzo e l'arrivo dei conferimenti ulteriori mise in forte discussione controlli e monitoraggi ritenendo che le prescrizioni previste già nella precedente AIA non fossero state adempiute. Più in generale le perplessità pesanti si concentrano sull'ipotesi dell'ampliamento del sito vista la presenza di vincoli a cominciare da quelli di Rete Natura 2000. Sulla carta l'ampliamento ha trovato copertura con un finanziamento da circa 15 milioni di euro ma la sussistenza dei vincoli ha progressivamente fatto emergere tanti fremi. Anche nel corso di tavoli tecnici convocati in regione il tema dei vincoli è più volte emerso mentre l'unica vasca attiva è quella gestita dalla società impianti SRR che porta avanti anche l'impianto TMB. Per l'orefice invece bisogna incentivare la prevenzione del rifiuto e differenziare di più. Supertassare i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, premiare le aziende che progettono i propri manufatti secondo i principi dell'economia circolare e chiudere immediatamente gli impianti che non rispettano le prescrizioni di legge.